Oroscopo del giorno. Giovedì 14 aprile 2022. Arete. Amore, fino ad oggi avrete una buona luna che dovrete sfruttare prima che vada in posizione opposta. Da domani infatti potrebbero iniziare ad esserci vari problemi dal punto di vista sentimentale e non solo. Lavoro. Ancora qualche possibile occasione per questa nuova giornata di metà mese. Toro. Amore. In amore tutto dovrebbe filare liscio per questo giovedì e piano piano inizieranno ad arrivare dei miglioramenti. Questo vuol dire che pure per i single potrebbero esserci piccole novità. Lavoro. Mercurio sta per tornare dalla vostra parte. Dovrete avere solo ancora un po' di pazienza ma soprattutto continuare ad impegnarvi. Gemelli. Amore. Con la vostra dolce metà continueranno ad esserci tensioni perché venere non vi sosterrà. Purtroppo avrete litigate e discussioni. Non sarà diversamente per i cuori solitari. Lavoro. Tutto tranquillo per il lavoro. Dovrete però fare attenzione perché dalle prossime ore potreste avere decisamente meno energie. Cancro. Amore. Sarà una buona giornata con un umore piuttosto favorevole grazie alla posizione della luna. Con i sentimenti tutto dovrebbe filare abbastanza liscio in questo giovedì di metà aprile. Il romanticismo potrebbe essere davvero alle stelle per oggi. Lavoro. Potrebbe essere il vostro giorno fortunato quindi non sottovalutate le nuove opportunità professionali che potrebbero presentarsi oggi. Leone. Amore. Questa dovrebbe essere una giornata del mese abbastanza tranquilla in ambito sentimentale. Dovrebbe essere infatti un giorno sereno sia per le coppie che per i cuori liberi da impegni amorosi. Lavoro. Non troppo bene sul lavoro ma da domani potrete sperare in un bel recupero grazie alla posizione delle stelle. Vergine. Amore. Se ultimamente le cose con il partner sono andate male oggi potrete sperare in un chiarimento. Così potrete quindi tentare di ritrovare un nuovo equilibrio di coppia. Tutto tace per i single o forse non proprio. Lavoro. Mercurio continuerà ad essere dalla vostra parte e a voi piacerà abbastanza. Piccole grandi soddisfazioni per il lavoro. Bilancia. Amore. Stanno per arrivare delle ottime notizie anche se questa sarà ancora una giornata abbastanza tranquilla e serena. Per le emozioni infatti non ci saranno delle grosse e importanti notizie al momento. Lavoro. Meglio sul lavoro. Da domani potrebbero iniziare ad arrivare alcune notizie veramente molto interessanti in fatto di impegni e novità professionali. Scorpione. Amore. Se siete innamorati con la vostra dolce metà potrebbero esserci momenti al top da vivere insieme. Potrebbe essere infatti una giornata piuttosto romantica e passionale. Anche per chi è single. Lavoro. Mercurio purtroppo sarà in opposizione in questo giovedì del mese di aprile. Potrebbero esserci alcuni problemi per oggi. Sagittario. Amore. Luna non troppo favorevole ma solo per oggi. Fatto sta che nemmeno venere sarà poi in posizione troppo ottimale per questa nuova giornata del mese. Poche buone nuove in amore per questo giovedì. Lavoro. Non avrete problemi per i vostri impegni lavorativi. Se vi date da fare potrete essere davvero ripagati. Capricorno. Amore. Giornata tranquilla per i rapporti durante la giornata odierna ma da domani non sarà proprio così. Preparatevi ad un repentino cambiamento perché nelle prossime ore ci saranno parecchi nervosismi che porteranno a discussioni. Lavoro. Tanno per arrivare ottime energie da sfruttare al massimo. Per oggi tutto dovrebbe filare liscio. Da domani qualche possibile buona nuova. Acquario. Amore. Una giornata che non vi regalerà delle grosse novità in amore ma sicuramente presto ci saranno emozioni più forti. Per oggi molto probabilmente avrete a che fare con un giovedì abbastanza piatto per i sentimenti. Lavoro. Problemini possibili sul posto di lavoro per via di mercurio che continuerà ad essere in posizione opposta. Pesci. Amore. Anche per questo nuovo giorno del mese venere sarà in buona posizione e vi assicurerà un ottimo giovedì di aprile. Con il vostro partner o con una nuova conoscenza non mancheranno delle piacevoli emozioni. Lavoro. Da domani vi sentirete più forti. Questa invece sarà una giornata piuttosto tranquilla per voi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie.